tre cose da non fare ad un colloquio di lavoro il recruiter sa bene cosa guardare per selezionare già da subito il candidato perfetto ecco quindi cosa non devi assolutamente fare arrivare troppo in anticipo o troppo in ritardo presentarti al colloquio disordinato, trasandato, sciatto, poco curato purtroppo l'abito ancora una volta fa il monaco e per alcuni ruoli non guasta presentarti al colloquio con la mamma, con il fidanzato, con il papà magari hai fatto una di queste cose, bene non farle più e fammelo sapere magari nei commenti o iscrivendoti sul mio canale